musica 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 Ciao gentaglia, sono Shota Hatesu, bentornati su Breaking Italy il weekend è durato moltissimo come al solito, quindi rieccoci qui a parlare delle cose interessanti accadute quest'oggi in settimana e tutto il resto la prima riguarda di nuovo la comunità omosessuale questa notizia è fantastica, mi è obbligato a fare delle ricerche in merita qualcosa che non conoscevo ovvero le donazioni di sangue premesso che comunque io in passato ho donato moltissimo il sangue ma è passato così tanto tempo ormai che non mi ricordo molto bene il questionario il quale vieni sottoposto prima di sdraiarti sul lettino e le uniche cose che ricordo sono la merendina il succo di frutta e soprattutto il fatto che dopo aver donato il sangue mi permettevano di andare a casa saltando le lezioni che è poi in realtà la ragione per la quale il sangue lo donavo ogni volta che si presentavano nel cortile della scuola perché ha il buon studio il buon impegno comunque salta fuori che paese che vai usanza che trovi la Francia infatti ha sollevato il proprio completo ban che colpiva gli uomini omosessuali impedendo loro di donare il sangue a prescindere veniva chiesto a loro infatti premesso che comunque certamente possono mentire tutti possono mentire se effettivamente avessero avuto rapporti omosessuali nella loro vita a prescindere da quanto lontana nel tempo quell'esperienza sia stata quindi semplicemente ti chiedevano hai avuto dei rapporti omosessuali sì perfetto arrivederci torna a scuola che peraltro significa che sto dando per scontato che tutte le persone che donano il sangue siano liceali che vogliono andarsene a saltare le lezioni cosa che sicuramente non è vera spero che non sia vera e comunque adesso in Francia non è più così ed è stato al centro di un grande dibattito in Europa il fatto che appunto gli uomini omosessuali non potessero donare il sangue e per questo si sentissero discriminati e giudicati per le loro scelte sessuali cosa che in un certo senso potrebbe essere vera in un altro senso potrebbe essere media medio vera è una parola che non esiste medio vera quello che è successo in Francia è che si è passati da non puoi donare il sangue se sei gay al non puoi donare il sangue se negli ultimi 12 mesi hai avuto rapporti omosessuali un premesso che comunque poi il sangue viene comunque controllato e il livello di gay viene facilmente individuato dagli scienziati anche se non è quello il punto la discussione diventa interessante quando la si prende dai diritti delle persone eccetera e la si sposta sul profilo scientifico dato che c'è una ragione per la quale effettivamente le persone che hanno rapporti omosessuali vengono considerate più a rischio perché lo sono più a rischio lo mostrano un sacco di dati recolti da un sacco di agenzie differenti che mostrano come l'incidenza della Kai-Woo nella minoranza della popolazione che ha abitualmente oppure ha avuto esperienze MSM che significano male sex to male che è un modo scientifico e delicatissimo di dire ai tuoi genitori sapete quando vi ho detto che stasera sarebbe venuta a cena la mia fidanzata ho qualcosa da dirvi in merito è molto più alto della norma il che significherebbe che nella popolazione LGBT c'è un più alto rischio di contrarre un certo tipo di malattie ed è qui che la cosa è interessante perché premesso che comunque ben fatto la Francia a non dire sei gay non puoi donare il sangue ma comunque a tenere un livello di controllo alto per un gruppo di persone a rischio vorrei chiedervi cosa ne pensate perché ovviamente conoscete la mia posizione piuttosto amichevole per quanto riguarda la comunità LGBT in genere ma c'è anche tutto il discorso relativo al fatto che la scienza non fa discriminazioni la scienza è scienza in genere questa avviene prima di tutto il resto quindi se un minoritario gruppo di persone è a più alto rischio che ha permesso che comunque si fanno i controlli e ci sono tutta quelli controlli non è che semplicemente vi schiaffano dentro il sangue malato è a più alto rischio contagio perché un certo tipo di pratiche sessuali sono a più alto rischio contagio bisogna effettivamente tenerle conto oppure semplicemente ritenete che il discorso sia ingiusto perché credo che i punti interessanti siano due c'è chi da una parte dice che in effetti sì ok perfetto e allora il sesso anale però tra eterosessuali perché anche quello accade come mai non se ne tiene conto e infatti in italia tra le cose che ricordo c'è la generica domanda del rapporto sessuale al rischio che può significare non protetto può significare anale può significare che ne so Netflix and chill con persone sconosciute e tutto quel discorso lì d'altra parte però la comunità LGBT sono poche conseguentemente anche l'apporto che possono dare alle banche del sangue nazionali e mondiali è limitato quindi di nuovo citando parole che però non sono mie ma trovo che siano fantastiche per aprire una discussione dovrebbe statisticamente e scientificamente in questo senso escluderle quelle persone però in quel caso discriminandole appunto altri invece dicono ancora che questo discorso vale ma per il passato perché adesso i controlli sono così tanti e così ben fatti quindi la possibilità che vi becchiate del sangue pacco è veramente veramente bassa non so un sacco di grigio in questo discorso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate nei Paesi Bassi nel frattempo sono state ritrovate un sacco di lettere che arrivano direttamente dal XVII secolo non sono mai state aperte e non verranno aperte ma verranno lette lo stesso grazie all'aiuto della tecnologia il che è fantastico per un sacco di ragioni innanzitutto perché queste lettere non sono state trovate prima perché erano in possesso di eredi di un uomo che apparentemente gestiva un ufficio delle poste in Olanda e visto che prima quando si mandavano le lettere a pagare per la lettera era la persona che riceveva non quella che inviava molte lettere non venivano recapitate e quindi ritornavano nell'ufficio delle poste dove venivano tenute nella speranza che qualcuno poi andasse a reclamarle e quindi pagasse per ritirarle tutte queste lettere erano dentro questo gigantesco coso baule sarcofago a fuori di legno questa cosa è fantastica perché racchiude un sacco di lettere scritte da persone che facevano parte del popolo perché normalmente quando si studia la storia la si studia filtrata dalle figure più in vista dai nobili dai ricchi commercianti dai clero perché sono poi quelli che lasciano più testimonianze la gente comune lascia meno testimonianze il che peraltro mi fa pensare che della nostra generazione non rimarrà più niente perché noi non scriviamo più niente non mettiamo più nulla su carta non facciamo più foto fisiche un po' di voi mi hanno chiesto di commentare questa cosa Shai cosa ne pensi della manifestazione a Bologna la grande grandissima manifestazione la verità alcuni di voi la maggior parte anti Salvini ma anche alcuni pro Salvini mi hanno scritto hai visto la manifestazione figata un sacco di gente io non so bene cosa dovrei dire perché questa è una delle cose che viene montata moltissimo dai media e la verità non ha una così grande importanza né questa manifestazione né altre grandi manifestazioni che vengono organizzate da grandi partiti politici che hanno un grande seguito seriamente non so bene cosa dovrei dire c'è stata come al solito la polemica dei quanti eravamo in piazza Salvini l'organizzatore appunto protagonista dell'evento della domenica ha tirato fuori il vecchissimo discorso del siamo un miliardo di miliardi otto milioni di miliardi in questa piazza bellissima poi salta fuori che non è vero semplicemente perché le persone non ci stanno così tante in quella piazza come in altre piazze è un vecchio problema lo hanno fatto le sinistre le estreme sinistre lo ha fatto il movimento 5 stelle Beppe Grillo adesso lo fa Salvini lo ha fatto Berlusconi mille volte le stime fanno sapere che in piazza c'erano circa 20.000 persone ora mi rendo conto una grande manifestazione in piazza e tutto quanto sono 20.000 persone che vanno in piazza e seguono un grande partito non è così importante non è così importante specie perché non si è detto niente di nuovo essendo in questo caso una manifestazione di destra se la sono presi con la sinistra e le cose classiche da piazza e da comizio io detesto i comizi politici perché sono praticamente la morte della politica e la morte della discussione per quanto mi riguarda comizio politico uguale slogan e infatti questa sinistra i comunisti spazzeremo via i centri sociali e anche altre varie dotte citazioni come Salvini che involontariamente dicendo che gli uomini si dividono in produttori e parassiti cita Andrew Ryan lui pensava di citare qualcun altro ma stava citando Andrew Ryan interessante anche il fatto che molti abbiano fatto notare e queste foto le ho fatte io sono delle veloci ricerche su Facebook che sino a poco tempo fa Salvini aveva tutta un'altra idea su Berlusconi ma tanto non è importante le persone hanno memoria corta specie in politica e come a molti sembra non fregare niente che per dire Matteo Renzi abbia spesso detto delle cose e poi abbia fatto il contrario di quelle cose e allo stesso modo il leader del Movimento 5 Stelle Grillo di continuo dica una cosa poi se la rimangi e ne dica un'altra anche in questo caso potete postare tutti gli screenshot che volete buona parte dell'elettorato non è recettiva rispetto all'ipocrisia l'ipocrisia non è importante in politica è considerata molto molto poco o semplicemente ha un significato diverso dipendentemente se a essere l'ipocrita è qualcuno che ci piace o qualcuno che non ci piace e questo è tutto quello che avevo per oggi grazie per aver guardato puntata come al solito sponsorizzato da Heia che grazie a Dio esiste perché YouTube mi sta rendendo la vita difficile e questi sono il nostro alfiere e la nostra regina per oggi direttamente da Westeros e quando dico Westeros intendo Lucca 2015 quindi grazie mille Roberto e grazie Giorgia per essere i nostri alfiere e regina di oggi che aprono la settimana grazie a tutti gli altri per essere arrivati fino a qui io sono Shuta Heizyu questo era Breaking Italy ci vediamo domani alle 18